Quando uno perde una moglie è il vedovo, quando uno perde i genitori è orfano, quando uno perde il figlio non c'è un nome. Al teatro Mecenate di Arezzo è andato in scena il format Ogni Giorno, un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado del territorio aretino. In platea oltre 600 ragazzi per una riflessione sulla sicurezza stradale. Il 10 settembre 2013 Francesco Saccinto è uscito di casa e non è più tornato. Francesco Saccinto, per gli amici saccio, è mio figlio. Un ubriaco, tossico e senza patente da diversi anni. Lo centrava in pieno, invadendo la carreggiata e non l'ha neanche soccorso. Questo format è condotto da Luca Pagliari, dal giornalista Luca Pagliari, ed è reso possibile anche l'associazione Rose e Bianche sull'asfalto, nata a seguito della scomparsa di Francesco, che si incontra sul palco con la storia di Micaela. Micaela ha 21 anni, è una ragazza che è entrata a San Patrignano minorenne, con già parecchi anni di dipendenza alle spalle. Abbiamo scelto di raccontare queste due storie per trasmettere agli adolescenti che abbiamo incontrato oggi e che incontriamo in tutta Italia l'importanza delle scelte, che parte già da quando si è ragazzi. L'iniziativa rientra nel progetto Arrivare Sicuri. Grazie. Grazie.